ok lintentari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i buonissimi video ma ora toccate ma te ok siamo pronti per andare a giocare un nuovissimo gioco ringrazio chi ce l'ha dato ed ora andiamo a giocare coi techno gust salvataggio ci siamo e andiamo a giocare a questo nuovissimo gioco opzion vediamo se c'è l'italiano lingua dovrebbe esserci prima di tutto c'è solamente il volume story ok come si può vedere la grafica è spettacolare come gioco come tutto il gioco è bellissimo perché ho visto dei game player di questo gioco qua e il trailer e mi è piaciuto moltissimo il il trailer di questo gioco qua non so come mai non vi dico non so come mai ma mi è piaciuto moltissimo vediamo se si può saltare con qualche modo e mi è piaciuto molto perché poi si nei pezzi ci sono delle cose da fare bellissime e poi un un compartimento molto bello adesso andiamo a vedere una storia bella perché deve essere una storia bella allora non potete saltare i pezzi e vedete ci avete tutto quasi come degli altri giochi che avevano fatto simili simili a questo e però si vede che sono tutti manga giapponesi come fa ko e tecmo che fa sempre questi giochi qua fatti sempre stile manga facciamo veloce così iniziamo il gioco perché sempre come sempre in ogni gioco all'inizio c'è sempre dove devono parlare spiegare un po' per essere nella storia Infatti come si può vedere Tutti i personaggi I movimenti sono Molto belli A mio avviso Poi non c'ho voi Non c'è cosa fuori Ma come facilmente Il principe Dì Non c'è È un progetto Il tipo di popolo È un progetto Qui c'è C'è questo progetto Qu профессioni È un progetto E' un progetto Non è piacciono Lecce La Hitz c'è Log Vediamo cosa fa Qua ci vorrà un po' prima che inizieremo Propriamente questa storia Per chi ha visto il trailer Il gioco Vi dico che Cos'è così Poi ci sarà la recensione Tutto quanto sul sito Però il comparto Dell'inizio Ci vorrà un po' Ci vorrà un bel po' Prima che inizieremo mi sa No adesso sta facendo new loading Per cui vuol dire che No ancora parlano Ok ora si potrà iniziare Spero Avete visto potete fare Poi il vostro villaggio Vi ho fatto vedere Che potete fare il vostro villaggio In questo gioco Vediamo perché Qualche cosa dovremmo fare Se no Tutti si rompono Dopo un po' A aspettare Perché Chi come Videogiocatori vogliono giocare Stare nella storia Troppo lunga Dopo un po' Uno si stufa E Non Non prende Però serve la storia Perché vi Ok ora ci siamo Ok dobbiamo Chiudere Il villaggio stiamo facendo Adesso tocca fare il villaggio Ok abbiamo fatto la prima casa Davanti Davanti a fianco A quell'orto E più Davanti a questa Casa Grande Di regno Confermo Next E vediamo ora cosa succede Dove lui venderà la frutta La verdura E tutto quanto Vedo lì che c'è frutta e verdura Vediamo cosa Qua mi sa che è un gioco Dove parlano 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 Dobbiamo vedere Se adesso ci fa Guardare Se adesso ci fa fare Qualche cosa In più Alla prossima Sì Ah vanno e trovano delle cose Tanto che cammino Mi sembra Dieci di queste Conferma Guardiamo cosa succede Ok Ah la casa è arrivata Adesso è next Ok ragazzi Rimaniamo così Poi lo vedrete anche sul twitch Andremo avanti assieme tutto quanto E niente Bene 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 Dobbiamo costruire un'altra cosa Un attimo solo Costruiamo solo l'altra Confermato ok C'è un request Stila Conferma Ok Bene Ed ora cosa facciamo Ora Ci vediamo Alla prossima Con un altro Magnifico e stupendo Video Ciao Seguici anche su twitch Per continuare a vedere Questo gioco Come va a finire E ricordati che ce ne saranno Altri Per cui Iscriviti Oh ma dai Hai finito il video Ci vediamo alla prossima Sempre e soltanto Nintendari Ciao Ciao